La linea lo dai chiaramente in privato, rientriamo nuovamente in studio per conto nostro, lo dai in regia, bene, nel frattempo che Riccardo fornisce questo numero dove poterlo contattare, io stavo vedendo appunto questo, l'agenzia del territorio di servizio pubblicità immobiliare, si tratta di un mutuo, una richiesta di mutuo, un mutuo concesso, ci siamo? Stiamo aspettando che Riccardo Schicchi si ricolleghi con noi perché c'era un problema di linea, Comunque contraddizioni ce ne sono tante. Diciamo che la cosa mi colpisce, c'è un mistero sicuramente che avvolge completamente, ammanta proprio questa, una vicenda, pronto, ci siamo? Dovremmo esserci per ripresare, d'altro siamo anche quasi in chiusura. Questo qui è del sindaco di Lerma, che nega appunto che le spoglie di Moana siano lì, come è stato dichiarato dal figlio Simone. Bene, ci vediamo perché c'è un mistero che ammanta un po' tutta la vicenda, qui si parla, Riccardo ci sei? Sì, sì. Si parla di un mutuo proprio concesso di 2 miliardi di lire appunto a Pozzi, Anna Rosa, Moana Rosa, nata il 27.04.61 a Genova. E la data? Da parte del credito fondiario industriale, forse la data, porta la data del 26 giugno del 1995. Assia mia. Registro particolare 81.17. Effettivamente, ti ripeto, sono i due documenti che mi hanno colpito molto di più, a parte questo della dichiarazione del sindaco di Lerma, che nega che le spoglie di Moana, le cene di Moana si trovino appunto nel cimitero appunto del paese in questione. Però ecco, questo mutuo del 26.695 sembra quasi stare in un film di Dario Argento, effettivamente. Ma più che altro mi sembra stare in un film dei magnifici ladri, cioè perché secondo me i mutui si aprono anche con le persone decedute per prendere dei soldi. E come fai? Chi è che va a prendere? Questo sarebbe una cosa gravissima, effettivamente. Un notaio che è falsario, allora. Eh beh sì, questo è un falso. E allora va bene, andiamo a individuare. Ma come mai? Quando dico una cosa... Io, queste qui sono... I documenti miei sono tutti frutti di falsari, invece i documenti della famiglia sono tutti documenti inoppugnabili. Ma non credo che siano della famiglia, cioè la clinica di Lione sta lì. No, e beh, la clinica di Lione mica ha dato Moana Pozzi, Anna Moana Rosa Pozzi morta, eh. Ha detto una certa... Comunque io vorrei abbandonare un attimo questo clima di un po' di battibecco, magari forse creare un clima un po' più collaborativo, infatti perché io poi tra l'altro sono sempre dalla parte di quella che potrebbe essere la verità, della tutela, insomma, ecco, dei più deboli, proprio in genere, non faccio mai il mio giornalismo a servizio del potere, ma sempre da parte della gente. In questo caso la parte debole, evidentemente, dovrebbe essere Moana, infatti naturalmente che almeno in base, ufficialmente risulterebbe morta, deceduta. Morta forse è una parola un po' sbagliata. Però in base a questi documenti forse un atteggiamento più collaborativo, sia da parte di Brunetto sia da parte di Riccardo, insomma, penso che sia... Dice che non sono veri. Io posso capire, forse, uno sbaglio effettivamente di data per quanto riguarda la denuncia di smarrimento... Quale sbaglio? È che hanno fatto le pentole senza il coperchio. Un attimo, per cortesia, Brunetto faccio un attimo... Poi invece il 26 giugno 1995, effettivamente si parla di quasi un anno dopo, sono nove mesi dopo qui... Questo se è un falso, sicuramente sono delle persone penalmente responsabili. Sì, anche se comunque un minimo di attenzione da parte di un organo che eroga mutui davanti a un nome così popolare, d'altronde dopo la morte se ne è parlato talmente tanto che credo che sia stato veramente impossibile che nessuno si sia accorto che non fosse Moana chi ha richiesto il mutuo, insomma, anche questo mi sembra molto strano. Questo io, diciamo, giornalisticamente sono un po' addolorato, un po' dispiaciuto per il fatto di dover chiudere poi la puntata effettivamente con un mistero forse ancora più fitto in base a quello che mi ero... perché io bene o male mi ero reso conto di una storia un po' ammantata da un mistero, insomma, piuttosto fitto, ma adesso con queste prove documentali che ti ripeto non avevo mai visto mi trovo in una posizione ancora più, diciamo, di dubbio, Enzo, sicuramente, forse la ricerca della verità forse è la cosa più importante, insomma, da parte di tutti. Penso di sì, anche per smascherare tutti i furbacchioni che ci stanno praticamente giocando intorno, giocare sulla morte di una persona tra le altre cose così belle e importante come Moana è un fatto grave e col tempo vengono fuori tutte le verità. Anche Riccardo, io adesso tu sei un esperto del settore, però io dal di fuori penso che un personaggio come Moana sia un po' una mosca bianca, appunto, nel settore dell'erotico, erotismo. Io forse vedo che a fianco la nostra Loretana Bontempi, che è un po' giudico da un punto di vista forse culturale, ecco, soprattutto di spesso. Spiango Moana e quindi sono molto triste sentire tutto questo. Se un giorno Fantauzzi avrà ragione lo ringrazierò, però per il momento sono molto scettico. Quanto meno ci devi ragionare sopra, no? Sì, sì, ma magari io parlerò anche con Antonio, ti dirò scusa, ma come hai accettato una richiesta di una persona che stava male, che non avresti dovuto comunque accettare, perché se era lucida come l'ho sentita io, può darsi in un momento di sconforto abbia chiesto di farsi togliere la vita, ma non per questo doveva obbedire, può anche darsi che ha obbedito anche all'idea di scappar via. Purtroppo non è così, ma potrebbe pure esserlo. Permetti che almeno ci sono delle grosse lacune? La tua onestà culturale e intellettuale non può non esimerti da ragionare su questa cosa. Infatti sta dimostrando una grossa onestà intellettuale, Riccardo. Infatti è questo. Le lacune sono causate da una famiglia moralista che si è sempre nascosta, che con questo meccanismo e questo gioco ha creato i misteri. Ma se tu sai meglio di me, per esempio, che al Comune di Roma hanno fatto delle corruzioni per far diventare Simone Conforti, farlo diventare Simone Pozzi, qualcosa comincia già da lì, no? Diciamo che non era una famiglia del tutto tranquilla. Moana ne ha sofferto molto, su questo bisogna stargli vicino, speriamo che si chiarisca tutto, però rimane Moana viva realmente, non nelle ipotesi, ma per quello che è riuscita a mantenere fino alla fine una coerenza, una serenità, un modello di donna straordinaria che dovrebbe vivere anche nelle altre persone che prendono questa vita in un altro modo, in una maniera certamente ipocrita che quello che non era assolutamente Moana. Bene Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Io ringrazio pure Fantauzzi che comunque ce la sta mettendo tutta e spero che abbia ragione. Io spero che con questa puntata in qualche modo abbiamo dato un piccolo aiuto, abbiamo magari introdotto un'altra piccola goccia appunto in un oceano che possa arrivare a scoprire la verità e poi soprattutto a far sì che Moana possa riposare in pace. Il ricordo di Moana sia limpido e estraneo a qualsiasi tipo di mistero di titubanza. Insomma ecco questo è forse la cosa più importante, il messaggio che vorrei lanciare a te, a noi tutti e ai nostri ascoltatori. Bene, grazie mille di nuovo Riccardo per l'intervento. Grazie. Grazie Riccardo Schicchi. Dorniamo ancora in studio, siamo veramente negli ultimi minuti, perciò facciamo adesso una piccola conclusione. Io volevo sentire Loredana che effettivamente, mi metto, è stato molto ovviamente... Grazie.